Musica Buonasera a tutti, benvenuti all'edizione del telegiornale di Canale 11 di questa sera. Iniziamo con la prima notizia da Monza. La rottura di un tubo della caldaia ha fatto sì che nel giornate di lunedì e martedì i bambini della scuola primaria Riberti di Monza abbiano dovuto seguire le lezioni al freddo. Solo nel pomeriggio di ieri è stato portato a termine l'intervento di sostituzione che ha permesso oggi alle alunni di seguire le lezioni senza il cappotto. Le prime avvisaglie del guasto si erano avute venerdì quando la temperatura era scesa lentamente durante la giornata. Ma la sorpresa più grande, i bambini, il personale scolastico e le famiglie l'hanno avuta lunedì mattina quando rientrati nelle aule dopo il fine settimana hanno trovato una temperatura che si aggirava intorno ai 15 gradi. Un paio di giorni di disagio dunque con alcune mamme che hanno deciso di non mandare i propri figli a scuola in attesa di maggiori informazioni sull'intervento alla caldaia. Il dirigente scolastico Graziano Sebastiano ha immediatamente avvertito gli uffici comunali competenti che si sono subito mossi per risolvere il problema nel miglior tempo possibile. Tutto oggi è tornato alla normalità. E ora andiamo a Briosco. Settimana cruciale per Martina. In questa settimana si dovrebbe decidere il futuro di Martina. Il caso di questa bambina rapita dal padre e portata illegalmente in Tunisia ormai da settimane è sempre più nebuloso. Ma pare che questa settimana possa essere cruciale per le sorti della piccola. Nell'ultimo weekend in Tunisia si sono tenute le prime elezioni libere. Si spera che questo possa giovare al caso di Martina anche se nulla è detto. Elezione a parte comunque venerdì sarà il giorno dell'udienza che deciderà le sorti di Martina. Sarà deciso infatti se può tornare con la mamma in Italia oppure se dovrà rimanere con il padre. E ora spostiamoci a Limbiate. Cava Mascheroni sotto sequestro. Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 25 ottobre, la Cava Mascheroni di Via Cavour, che si trova sul confine tra i paesi di Limbiate e Senago, è stata messa sotto sequestro. Il provvedimento è stato eseguito e a seguito del sopralluogo effettuato dalla Polizia Provinciale della provincia di Monza e di Milano della Polizia Locale dei Comuni di Limbiate e Senago e dai responsabili degli uffici tecnici dei due comuni. Dopo un accurato controllo iniziato in mattinata, le forze dell'ordine hanno rilevato alcune violazioni ai testi unici vigenti in ambito ambientale ed edilizio e agli articoli del codice penale sui rifiuti e sul rumore. Sarebbe stata trovata infatti una quantità di terra decisamente superiore al limite consentito. Il sito sequestrato rimarrà chiuso fino al pronunciamento del pubblico ministero. Espostiamoci ora a Giussano. Lavori nei luoghi sacri. Interventi del Comune per mettere in sicurezza i luoghi sacri. Il Comune di Giussano ha deciso di intervenire nella frazione di Paina compiendo alcuni lavori per mettere in sicurezza i due luoghi sacri principali, ovvero le chiese e il cimitero. Dopo le numerose cadute da parte di signore anziane sul sagrato della chiesa, è stato installato un corrimano che servirà per tenersi in equilibrio e salire e scendere le scale in tutta sicurezza. I corrimani sono stati posti in tutte le discese del sagrato della chiesa. Per quanto riguarda invece il cimitero, dovrebbero iniziare i lavori per la realizzazione di ingressi appositi per i disabili, visto le attuali difficoltà che un disabile può avere nell'entrare nel Campo Santo. Oltre a questo saranno fatti lavori per permettere ai disabili anche di accedere ai servizi igienici e agli altri servizi del cimitero. I lavori e i veletti saranno integrati poi con la realizzazione di una rete per lo smaltimento delle acque. E ora andiamo a Seregno, aperto il primo sportello decentrato del Tribunale di Monza. Durante la conferenza stampa, tenutasi nella giornata di ieri a Seregno, è stata resa nota l'apertura del primo sportello decentrato in Lombardia della volontaria giurizzizione. La città che da oggi ospiterà il tale organo sarà proprio Seregno e come ha spiegato il sindaco e presidente dei sindaci dell'Asla di Monza e Brianza, Giacinto Mariani, lo scopo è quello di rispondere in modo più efficace e rapido alle esigenze dei cittadini. La sezione decentrata del Tribunale si occuperà di amministrazioni di sostegno, ovvero di quella fascia della popolazione più debole in primis anziani e disabili, non in grado di gestire in piena autonomia quegli iter burocratici, quali il pagamento delle tasse oppure la stipola di contratti. Da oggi, quindi, tutti i cittadini residenti a Seregno e negli otto comuni dell'area interessata al protocollo d'intesa, quindi Barlassina, Cogliate, Giussano, Lazzate, Mezza, Meda, Misinto e Seveso, potranno avvalersi dei servizi di sostegno senza più doversi recare a Monza. Anna Maria Di Oresse, Presidente del Tribunale di Monza, ha infatti sostenuto che l'intento è quello di permettere al cittadino di rimanere sul proprio territorio di riferimento e di trovare una risposta ai bisogni di natura socioassistenziale e giuridica senza dover gestire le sovrapposizioni tra i vari enti. Lo sportello volontario giurisdizione è attivo il martedì dalle 16 alle 18 e il giovedì dalle 9.30 alle 13 in via Olivetti 17. E concludiamo il telegiornale di questa sera ricordando quali sono le farmacie aperte nella provincia di Monza e dell'Abrianza. Nel distretto di Brugherio sarà aperta la comunale 10 in via Ramazzotti 36 a Monza, mentre nel distretto di Caratebrianza sarà aperta la farmacia Varisco a Caratebrianza in via Mascherpa 14. Nel distretto di Cesano, Bovisio Masciago e Limbiate, sarà aperta la farmacia nuova a Limbiate in via Tolstoi 18. Nel distretto di Desio, Nova e Muggio, sarà aperta la farmacia Ravasi a Desio in corso Italia 131. Nel distretto di Lissone, Sovico e Maccherio, sarà aperta la comunale 10 di Monza in via Ramazzotti 36. Nel distretto di Meda, Lazzate e Seveso, sarà aperta la farmacia nuova a Barruccana di Seveso in via Borghetto 7. Nel distretto di Monza e Villa Santa, sarà aperta la comunale 10 di Monza in via Ramazzotti 36. Nel distretto di Seregno e Giussano, sarà aperta la farmacia Sant'Agostino a Seregno in via Trabattoni 41. Nel distretto di Vimercato, invece, sarà aperta la farmacia Gilera ad Arcore in via Gilera 131. E la farmacia Moiraghi di Roncello in via Vittorio Emanuele 4. Queste informazioni sono state gentilmente fornite dall'Associazione Lombarda Farmacie, che ringraziamo. Queste erano le notizie per questa sera. Vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento a domani. Buona serata a tutti. Grazie. Grazie.